Non sembra provocare imbarazzo agli interessati la carella a distanza, nemmeno troppo grande, fra l'attivista climatica Greta Thunberg e il presidente americano Donald Trump. Sapendo di suscitare le reazioni dei media e dell'interessato, la giovane, invitata a Davos per il secondo anno consecutivo, ha criticato il presidente. Il fatto che gli Stati Uniti abbiano abbandonato l'accordo di Parigi oltraggia e offende tutti, come è giusto che sia, ma a questo sembra non preoccupare quelli che hanno il potere. Parole che non potevano non suscitare una qualche reazione di Donald Trump, arrivato nella località svizzera in elicottero per evitare le proteste che, come sempre, si sviluppano attorno al summit. Il presidente stavolta ha però cercato di evitare dei riferimenti diretti alla giovane per non animare troppo le polemiche. Siamo in un periodo di grandi speranze, ha detto, di ottimismo e di azione, ma dobbiamo abbracciare le possibilità di un bel domani e respingere i profeti del disastro e dell'apocalisse. Non solo economia in Svizzera, dunque. Il Forum Economico Mondiale di Davos quest'anno ha voluto dedicare più spazio al tema della salvaguardia ambientale ed è diventato terreno di scontro tra due visioni opposte in tema di cambiamenti climatici.